Il governo dovrebbe risolvere. Onorevole, adesso ho levato la questione appunto delle case che vengono date a garanzia per i mutui e allora questa questione io la voglio girare a un altro ospite che si è collegato ora con noi è l'economista Giuseppe Di Taranto, professore di storia economica alla LUIS. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, l'avrà sentito nel nostro dibattito, lo citavano anche nel pezzo, l'allarme della BCE perché appunto le case sono nella maggior parte dei casi a garanzia dei mutui che vengono erogati dalle banche. E allora quali sono i rischi di questa normativa? Guardi, mi lasci dire che condivido pienamente ciò che è stato detto in studio da entrambi, diciamo, gli esponenti politici. Condivido pienamente perché in realtà qui bisogna coniugare quelle che sono le esigenze della green economy per usare un termine molto generale, con quello che è il nostro patrimonio artistico e inoltre noi abbiamo un problema in più che in realtà è un grande vantaggio invece per il nostro paese cioè che l'80% delle famiglie italiane hanno una casa di proprietà e questa è una grande difesa anche per il nostro debito pubblico rispetto agli altri paesi che non hanno queste proprietà così, come dire, diffuse sul territorio. Adesso il problema è, si parlava di credito per i giovani, certo la Lagarde ha dato una mano sotto questo aspetto di dire attenzione, valutiamo bene ciò che stiamo facendo con questa direttiva però non dimentichiamo che la Lagarde sta aumentando il tasso di riferimento in un'Europa che invece ha un'inflazione... Professore è la prossima, ci arriviamo, ci arriviamo perché appunto le voglio far vedere, lei ha già lanciato il tema le voglio far vedere un pezzo proprio sul caro Vita, sull'inflazione che sta colpendo tutta l'Europa, l'Italia in particolare dunque si guarda con attenzione alle prossime mosse della Banca Centrale Americana e della Banca Centrale Europea che appunto il 2 febbraio molto probabilmente alzerà ancora i tassi di interesse, cioè il costo del denaro una scelta criticata da molti governi e anche da molti economisti, professor Di Taranto e allora cosa dovrebbe fare secondo lei invece l'Istituto di Francoforte? Guardi, bisogna soprattutto aiutare l'offerta, nel senso che noi abbiamo un aumento dei prezzi che è dovuto all'aumento dei costi delle materie prime, invece la Fed sta attuando una politica ottima per gli Stati Uniti perché lì hanno un'economia in surriscaldamento dove bisogna abbassare la domanda quindi questo aumento del tasso di riferimento sta funzionando negli Stati Uniti, a mio avviso non funziona e non funzionerà per l'Europa, noi dobbiamo soltanto aspettare, come si diceva anche nel servizio che ormai i costi delle materie prime tenderanno a diminuire, ma tenderanno anche perché finalmente è stato messo un tetto sia al prezzo del gas sia al prezzo del petrolio e quindi condivido quando è stato detto che speriamo che a inizio primavera o massimo a inizio estate ci sarà un notevole calo di questi costi delle materie prime e questo farà diminuire l'inflazione perché come dicevo l'inflazione dà costi, non dà domanda Professore, secondo lei quanto potrebbe scendere l'inflazione, quale potrebbe essere il livello di quest'anno? Lei lo diceva, le bollette caleranno, il discorso è che quando i prezzi del gas scendono non immediatamente si ripercuotono sulle bollette, ci vuole sempre qualche mese e allora quale potrebbe essere la stima dei prossimi mesi sul caro vita? Guardi, innanzitutto ha toccato un punto centrale perché l'Europa deve ancora disancorare il prezzo del gas dal prezzo dell'energia elettrica, quindi ora bisogna attuare questa come dire il futuro guardi è molto difficile fare delle previsioni perché le previsioni si devono a basare su dati scientifici e statistici ora ciò che sta purtroppo dominando questo periodo è l'incertezza quindi credo che bisogna avere più delle aspettative positive sull'economia che non delle vere previsioni credo che però per il 2023 al di sotto del 5-6% come inflazione media dell'anno non scenderemo Grazie professor Di Taranto per essere stato con noi Grazie a lei Buona giornata E allora ritorno dai nostri ospiti e ti stiamo...